Per disegnare questa collezione di lampada mi sono ispirata da lampada di carta giapponese che si chiamano Chushin per quello che la collezione si chiama così e ho voluto fare un progetto molto semplice ma che prende tutta questa poesia delle lampade di carta è molto vicina, c'è una più grande poi una più piccola e una terza più allungata così creano una vera famiglia per quello ci sono tre forme e tre colori diversi così tutte insieme si possono pensare a delle installazioni ho pensato questa lampada in due parti un po' come le lampade di carta una parte molto rotonda e un anello l'ufficio tecnico hanno pensato in prima volta a svilupparla in metallo alla fine siamo arrivati a scendere il vetro perché offre una superficie più lucida un colore più intensa e anche perché con una sola soffiata si faceva tutto il volume tra la parte panciuta e anche l'anello qua si vede la prima parte della soffiata della lampada si soffia tutta bianca e poi in una seconda parte si viene a verniciare tutta questa parte la parte panciuta in questo progetto il colore è così importante come la forma sono stati pensati insieme si vede la scelta di colore definitive che sono l'arancio, il verde e il grigio queste lampade hanno una luce molto morbida molto dolce è stata pensata con un schermo verniciato opaco che non lascia passare la luce e poi l'anello che lui lascia passare la luce e la lampada crea una luce nella parte di sotto diventa adesso una lampada molto moderna molto fresca, molto giovane grazie a tutti